Ciao cari amici, è finito G7 dove ci sono stati tutti i leader del mondo occidentale. E' molto significativo il fatto che questo G7 hanno svolto nella città che Stati Uniti d'America hanno distrutto utilizzando le arme atomiche. Questo è l'ennesimo sputo in faccia all'umanità, ovvero ritornare con discorsi di guerra, discorsi di prepotenza, discorsi di strumentalizzazione nel luogo che è stato demolito e che poteva non essere demolito perché non c'era nessuna necessità di sganciare quelle bombe, quella era un'azione chiaramente necessaria dal punto di vista geopolitico perché Stati Uniti d'America hanno utilizzato le armi nucleari per spaventare l'Unione Sovietica, per intimorire Stalin, per dimostrare che loro sono in grado di usare queste armi contro l'Unione Sovietica perché dopo la fine della seconda guerra mondiale gli Stati Uniti d'America si sono aggrappati alla vittoria dell'Unione Sovietica, sono entrati nel 1943 in guerra quando i sovietici hanno già spezzato la colonna vertebrale all'esercito nazista e la loro attività in Europa era rivolta non tanto per sconfiggere il nazismo perché poi alla fine loro non hanno sconfitto il nazismo, loro semplicemente hanno integrato il nazismo nel proprio sistema basti pensare di tutta l'industria, di tutti i scienziati, di tutti i militari, di tutti i rappresentanti anche del mondo della propaganda nazista che sono stati salvati dagli Stati Uniti d'America e integrati nel loro sistema del loro nuovo blocco occidentale la Nato, noi sappiamo che diversi militari dell'esercito nazista sono stati messi tra i vertici della Nato e tra i funzionari della Nato e così via senza parlare poi dei vari progetti militari, dei vari progetti legati all'ambiente aerospaziale statunitense dove erano riciclati tutti i scienziati, i gerarchi, i nazisti e così via quindi quando Stati Uniti d'America, quando qualcuno mi parla del fatto che loro hanno vinto la guerra contro il nazismo io dico che la guerra hanno vinto i sovietici, mentre gli Stati Uniti d'America hanno semplicemente salvato i nazisti dalla furia dei sovietici e li hanno nascosti in vari angoli del mondo, spesso anche nel loro paese oppure in Canada, in America Latina e così via quindi in questo G7 gli Stati Uniti d'America sono arrivati con sempre solita arroganza dei guerrafondai un paese che è stato distrutto da un'arma nucleare chiunque avrebbe innanzitutto visitando ufficialmente la città che è stata demolita dall'arma nucleare dove è stata uccisa talmente tanta gente che è stato un luogo di un'enorme tragedia un'autorità statunitense avrebbe dovuto chiedere intanto scusa a livello storico per ciò che è stato fatto nel passato non tanto per in qualche maniera cambiare la propria linea politica quanto per rispettare la memoria di coloro che sono stati uccisi durante quella vile, terribile, ignobile azione però Biden non solo non l'ha fatto lui anche si è vantato del fatto che non la vuole fare lui ha annunciato pubblicamente che non vuole, non ritiene necessario di chiedere scusa agli abitanti di Hiroshima per rappresentare il paese che nel passato ha distrutto e ucciso migliaia di persone in questa città e già quel inizio del Samen G7 è stato simbolico per comprendere tutto il senso di ciò che è successo dopo perché è come se si è trattato di una festa dei pazzi, guerra fondai che non hanno fatto altro se non darsi delle arie e fare la propaganda belligerante comunque alla fine si può dire che in questo G7 non sono uscite le cose molto importanti però ci sono stati momenti abbastanza disturbanti che hanno dimostrato tutta la debolezza del blocco occidentale questo G7 in qualche senso è stato anche un fallimento dell'Occidente anglosassone intanto loro si sono incontrati nel Giappone al quale Biden non voleva chiedere scusa e che ormai apertamente dice di voler diventare un paese nucleare con un'arma nucleare questa è una bella brutta notizia non solo per l'Occidente ma per tutto il mondo è un'enorme aggiunta a varie questioni di instabilità geopolitica nel mondo e gli anglosassoni non hanno potuto fare niente di solito loro hanno da dire avrebbero potuto affrontare questa questione prenderla un po' di punta invece niente hanno dovuto stare zitti Biden ha fatto la solita lotta con le scale è quasi caduto scendendo una piccola scala ha fatto certi errori nel parlare tra le cose importantissime a mio avviso sono stati innanzitutto la notizia giunta della caduta di Bachmut che ha dimostrato tutta l'incapacità di un sistema di informazione occidentale di gestire notizia di certa portata noi abbiamo visto semplicemente l'imbarazzo quando il giornalista chiede al presidente ucraino Zelensky se veramente i suoi militari l'esercito ucraino ancora controlla Bachmut Zelensky sembra una mummia in questo momento veramente non immagino in che stato lui si trovava lì dopo aver leccato il di dietro per diversi minuti a Biden dicendo ma quanto vi vogliamo bene ma la vostra visita in Ucraina noi ricorderemo per degli anni lei ci ha dato tutto per noi insomma tutte le solite leccate poi le arriva questa ammazzata della domanda Zelensky rimane lì flashato, fulminato e risponde ma no, non credo cioè in pratica il giornalista gli chiede se secondo lui i militari ucraini ancora tengono Bachmut e lui dice no, non credo questa sua non non credo si vede sul volto di Biden che Biden diventa nero nero per la rabbia come per dire ma che cavolo stai dicendo quindi continuano a parlare Biden manda in quel paese un giornalista perché un giornalista gli chiede domande Biden dice shut up proprio in maniera veramente brutta veramente maleducata chiude la bocca a un giornalista qua io mi domando ma scusate ma un presidente di un paese che ha demolito mezzo mondo con quella balla quella manfrina di noi siamo democratici portatori della democrazia ma non ma non riesce esprimersi diversamente ma deve proprio usare queste parole questi termini cioè dire shut up a un giornalista non può dire scusatemi perdonatemi a questa domanda non posso rispondere oppure trovare un altro modo deve zittire zittire in maniera maleducata cioè questa è stata una cosa veramente allucinante si vedeva che Biden era fuori di sé per perché proprio durante G7 si è rivelato il fallimento totale dell'investimento della NATO nell'esercito ucraino hanno perso la città che doveva essere il simbolo della resistenza dell'Ucraina sulla quale loro hanno puntato tanto hanno speso miliardi di dollari per varie compagnie pubblicitarie su persino sul festival di Sanremo della canzone italiana sono arrivati i musicisti ucraini che hanno cantato la loro canzone sulla fortezza di Bakhmut che non è non cadrà mai da lì pare che si doveva aprirsi chissà quale fronte poi in realtà niente tutto si sgonfia come un palloncino e Biden ovviamente in difficoltà perché lui capisce che dietro di lui ci sono i poteri ai quali lui deve spiegazioni la gente che ha investito tutti questi soldi vuole spiegazioni e lui di fronte ha un suo diretto dipendente un suo suo curato che per gli interessi degli oligarchi anglosassoni sta svolgendo il proprio lavoro in Ucraina e che ammette di fronte ai giornalisti occidentali ai giornalisti di tutto il mondo che il lavoro che lui deve svolgere lui non è riuscito a svolgere bene quindi dopo questa uscita di Zelensky sono passati passate qualche ora e Zelensky è uscito di nuovo con versione diversa dove lui si vede che ha già ricevuto dopo aver ricevuto delle botte da parte dei suoi curatori dopo aver ricevuto scritto il nuovo testo che lui da bravo attore ha imparato a memoria ha capito che cosa deve dire perché lui da sé non riesce a dire niente una persona che politicamente uno zero non può produrre i pensieri longemeranti politici lui non ha una propria opinione lui ripete quello che le dicono i rappresentanti di Washington per questo quando lo prendono di sprovvista i giornalisti così li sparano a zero lui non ha neanche intelligenza per dire carissimi sinceramente non sono stato ancora informato sono qua in viaggio un casino incontro varie persone cosa è successo a Bakhmut non lo so non vi posso dare risposta adesso datemi per favore tempo io vi darò tutte le risposte dopo no non è non è complicato cioè un politico minimamente abile nel legare due tre parole avrebbe risposto così ben sapendo che Bakhmut ormai è caduto che non c'è niente da fare però due più due sai fare sei di fronte a Biden che ti che ti regala i soldi che ti butta miliardi di dollari che però non c'è lui non le prende la sua tasca prende dei contribuenti quindi sei di fronte a una persona che dietro ha i contribuenti i potenti che hanno investito soldi in te tu non hai giustificato la spesa di questi soldi anzi se hai fallito e lo stai dicendo non solo a Biden lo potevi dire a Biden quando non c'era nessuno dire senti ho fallito mi dispiace non posso non so cosa fare l'esercito non ce la fa no tu lo dici di fronte ai giornalisti cioè proprio lo spalmi a livello internazionale come la nutella sul pane lo distruggi politicamente e qua si capisce proprio l'incapacità di Volodymyr Zelensky di affrontare certe sfide politiche comunque Zelensky dopo aver detto affermato ai giornalisti che secondo lui l'esercito carino non controlla più Bakhmut dopo qualche ora esce con una nuova variante ormai diversa totalmente da ciò che ha affermato prima dicendo ma no in realtà il nostro esercito combatte ancora stiamo ancora lì tenendo comunque comincia a tenere questa nuova variante della propaganda ucraina che tra l'altro molto simile a quella che loro proponevano anche durante altri situazioni simili quando hanno perso Mariupol quando hanno perso altre città loro ancora per due tre settimane raccontavano a tutti che combattono anche se i russi ormai erano oltre andavano oltre c'erano tutte le conferme c'erano giornalisti che erano presenti c'erano civili che raccontavano tutte le cose ci sono poi le mappe satelliche quello che si condivide attraverso le foto del satellite è la realtà non puoi andare contro la realtà oggettiva anche su Bakhmut avviene lo stesso se volete tra l'altro io sul mio canale telegram ho condiviso alcune di queste mappe c'è tutto disegnato c'è tutto spiegato per figlio e per segno dove sono le forze ucraine dove sono i russi e tutto quanto quindi Zelensky esce con questa nuova variante per cui contraddice se stesso facendo figura ancora peggiore di quello che ha fatto prima ormai non si può né sentire né vedere questa cosa tutti quelli che almeno hanno un minimo senso di civiltà capiscono che qua ormai è un fallimento totale di questo progetto Biden arrabbiatissimo la missione italiana tra l'altro attraverso il diplomatico militare ha scoperto della perdita di Bakhmut anche italiani non credo che sono rimasti contenti di questa cosa tra l'altro di questo passaggio è uscita la notizia pure in Russia e poi si è conclusa si è concluso il G7 sempre con una a mio avviso una cosa molto significativa ovvero il presidente di Brasile Lula il presidente del Brasile Lula non ha voluto incontrare Silensky questo è stato uno schiaffo qua bisogna dire cari amici quando schiaffo lo prende Silensky non pensate che questo è uno schiaffo a Silensky perché Silensky è una è una bambola voodoo in questo senso che rappresenta il potere occidentale nessuno ce l'ha con Silensky nessuno ce l'ha con Volodymyr Silensky in qualche senso a volte suscita anche compassione perché è chiaro che si tratta di un personaggio che probabilmente per motivi di avidità o di altri motivi personali finito nella situazione che è più grande di lui lui pensava che fare politica è come fare la serie televisiva dove lui ha fatto politico lui pensava che è così in realtà fare politica è una cosa totalmente diversa richiede innanzitutto l'integrità umana ciò che lui non ha lui non possiede l'integrità umana probabilmente perché è un attore probabilmente perché è abituato così perché è il frutto della sua educazione non è una colpa non essere non avere integrità ci sono tante persone che vivono senza integrità sono felici e non fanno i danni al mondo anzi riescono a trasformare questa cosa in un qualcosa di positivo qualcosa che addirittura può regalare al mondo certe situazioni positive lui poveretto è è un prigioniero della situazione nella quale si è si è auto si è autobloccato e quando questo personaggio viene preso a schiaffi da qualcuno questi schiaffi in realtà non sono rivolti a lui ma ai suoi curatori e quindi qua è molto alla conclusione di questo G7 la cosa più importante a mio avviso è stato questo segnale lanciato dal mondo multipolare al mondo dell'oligarchia anglosassone e al mondo dei sudditi degli anglosassoni il presidente brasiliano Lula alla richiesta di Macron di incontrare Zelensky perché lì è successo che Macron incontrava Lula hanno parlato e Macron ha detto ecco io vorrei chiedere a lei di incontrare Zelensky perché lui ha le cose da dire lui le vorrebbe dire le cose e Lula le ha detto io purtroppo caro mio amico Macron non ho il tempo ovviamente la scusa di tempo è una presa in giro perché quando una persona arriva a un summit come G7 ed è interessato di svolgere un certo incontro il tempo lo trova anche di notte perché le altre occasioni di questo genere non capitano spesso e quindi se il presidente Lula veramente fosse interessato di incontrare Zelensky sarebbe stato lui di persona a chiedere l'incontro però è stato chiaro che il Brasile non vuole assolutamente mantenere questa linea di sudditanza statunitense non vuole incontrare il loro fantoccio in questo senso cari amici si può dire che Brasile dimostra intanto ai propri compagni del club di Brics dei paesi del mondo multipolare che sono India che sono Cina la Russia e altri paesi che ormai si avvicinano a questo mondo e che collaborano in questo mondo Brasile dimostra che loro non vogliono prendere le iniziative personali nel affrontare certi personaggi certi rappresentanti del mondo occidentale cioè Brasile vuole dire noi Brasile non vogliamo esprimersi e partecipare da soli a certi processi noi non siamo come Arabia Saudita o come la Cina che quando vogliono chiamano Zelensky parlano con lui non vogliamo dare agli Stati Uniti e al mondo intero il messaggio di voler diventare i grandi portatori della pace nel mondo non ci interessa noi facciamo parte di un sistema vogliamo far parte di questo sistema questo sistema basato su multipolarità sul reciproco rispetto e noi non vogliamo mancare di rispetto ai paesi che sono i nostri amici che sono i nostri partner quindi Lula dice no a Zelensky ed uno schiaffo agli Stati Uniti d'America poi ci sono stati affermazioni su F-16 su Aeri li diamo non li diamo insomma tutta questa manfrina un po' un po' ridicola perché secondo me avrebbero avrebbero fatto bene a non dire niente e mettere il mondo già di fronte a un fatto compiuto dire cari amici noi abbiamo dato agli ucraini 20, 30, 50 aerei F-16 i loro piloti si stanno addestrando nelle nostre basi gli aerei saranno disposti nelle basi in Polonia perché in Ucraina non possono essere disposti in quanto i russi li distruggerebbero il giorno dopo e così faremo la guerra basta fine però loro non lo facono loro devono fare questa manfrina non sappiamo e diamo e non diamo perché loro fanno così perché loro devono fare sì che la società approvi o almeno come dire che ci fosse una 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 specie di idea che la società sta approvando che poi alla fine tutto fanno i poteri l'approvazione vera fanno loro però loro vogliono far dimostrare che c'è un minimo di processo democratico che noi non sappiamo cosa fare dare o non dare gli F-16 dipende ma poi chiediamo ai nostri cittadini insomma vediamo cosa dice il congresso tutte queste balle qua in realtà hanno deciso da tanto tempo sicuramente sono convinto 100% che daranno questi aerei aerei saranno messi in Polonia io questa cosa l'ho detto già quasi un mese fa in uno dei miei video e vedrete che sarà così perché questa è la loro linea non possono fare altrimenti comunque questa manfrina che continua con questi aerei anche lì su G-7 è veramente è ridicolo è proprio di basso livello fa vedere che i rappresentanti occidentali non sono più neanche in grado di comunicare in maniera decisa quelli che sono le loro posizioni quelle che sono le loro strategie e un'altra cosa questa è ultima che secondo me da dire su questo G-7 è che in generale l'immagine dei paesi che hanno partecipato al G-7 l'immagine è molto indebolita l'immagine è indebolita diviso soprattutto sulle questioni di Taiwan soprattutto su messaggi che sono stati dati alla Cina non si nota tutta questa unanimità non si nota tutta questo impeto di risolvere questi grossi problemi si nota che diversi paesi non sono contenti per niente di ciò che sta succedendo in Ucraina e di come sta andando avanti la questione ucraina sono molto preoccupati per ciò che sta accadendo negli Stati e negli Stati d'America soprattutto per la questione di default per la questione economica per il fatto che lo Stato non riuscirà a mantenere né se stesso né la società e quindi è di fronte al fallimento e tutto questo ovviamente suscita grossi preoccupazioni nell'aria di quelli che dovrebbero essere i grandi sostenitori della politica delle anglosassoni invece si vede che ognuno cerca di strisciare un po' allontanarsi un po' come si fa nel caso quando improvvisamente si sospette che nel gruppo c'è qualcuno che sia ammalato di qualche malattia contagiosa a me mi ha fatto questo effetto G7 si sono riuniti insieme ma ci sono i paesi che vengono trattati dagli altri come ormai ammalati e pericolosi e quindi c'è questa perfida perfida e anche un po' timida paura che si nota nei rapporti nelle relazioni almeno io ho avuto questo questa sensazione poi vediamo come andrà veramente nella a livello geopolitico come faranno prossimi eventi cosa faranno vedere amici grazie per essere stati qui con me grazie per il vostro sostegno grazie per il vostro tempo per favore iscrivetevi al mio canale attivate la campanella delle notifiche così vi arriveranno i segnali quando io carico i miei nuovi video ormai voi sapete che più o meno io cerco sempre a tenermi agli stessi orari io pubblico i miei video sul mio canale youtube tre volte al giorno un video alle 13 uno alle 18 uno alle 21 noto con piacere che per molti di voi la pubblicazione dei miei video ormai è diventato una specie di appuntamento stabile mi fa molto piacere che voi aspettate l'uscita dei miei video quindi vi invito di mettere like oppure un dislike dipende se vi piace il video o no e vi invito soprattutto di commentare come sempre io attendo i vostri commenti mi piace molto leggere quello che voi pensate io apprezzo le vostre idee e le vostre opinioni per me sono molto importanti grazie cari amici di nuovo vi mando forte braccio e vi voglio bene grazie cari amici